Ogni volta che si parla di un fantasma si pensa ad una notte buia, un castello, una storia drammatica, ma non è sempre così. Il cuore in ospitale delle Alpi cela il mistero di un fantasma che fu un audace alpinista. La sua scomparsa in una scalata epica è solo l'inizio della storia. Le imponenti vette custodiscono il suo spirito, testimone delle sfide e delle imprese, di chi osa sfidare l'inesplorato. Americo Amé Gorré nacque a Courmayer nel 1813 e non fu un uomo comune. Fin dalla giovinezza nutri una passione incontrollabile per le Alpi. Fu un visionario dell'alta montagna, un pioniere del mondo dell'alpinismo. Non si accontentava di ammirare le vette da lontano. Lui voleva sfidarle e conquistarle. Le storie delle sue intrepide escalate si diffusero rapidamente tra gli amanti dell'alpinismo. Fu uno dei primi a scalare il Monte Bianco e a percorrere le intricate vie delle Alpi. La sua fama si diffuse come il vento che sversa le creste dei monti. In breve tempo divenne uno dei primi esploratori di quelle montagne. Le sue spedizioni, molte delle quali avevano lo scopo di esplorare e mappare le montagne della valle d'Aosta, divennero mitiche e leggendarie. Ma come spesso accade nelle storie che raccontiamo, il destino aveva riservato ad Americo Amé Gorré un tragico epilogo. Nel 1863, mentre tentava una delle sue scalate più audaci, la montagna lo inghiottì e il suo corpo non fu mai trovato e la val d'Aosta perse uno dei suoi eroi. Qui finisce la vita terrena di Americo Amé Gorré ed inizia la leggenda. Si racconta che il suo spirito, rimasto intrappolato tra le cime delle Alpi, non abbia mai abbandonato quelle terre che tanto aveva amato. Si dice che il suo fantasma, vestito con gli abiti del suo tempo, vaghi ancora tra le vette osservando gli alpinisti che osano sfidare l'inesplorato. Molti escursionisti affermano di aver visto una figura solitaria vestita all'antica, con strani abiti d'epoca, mentre riferiscono di aver udito strani suoni e voci nell'aria riconducibili alla presenza di Americo. Chiunque abbia scalato queste montagne ha sentito parlare delle apparizioni spettrali di Americo Amé Gorré, delle voci della notte e delle ombre misteriose e benevole che proteggono chiunque osi sfidare le Alpi. E mentre l'alta montagna nasconde i suoi segreti tra le rocce e i ghiacci eterni, la leggenda del fantasma di Americo Amé Gorré continua a danzare tra le cime, intrecciandosi con il vento freddo che sibila tra le valli. Una storia di coraggio e mistero che sfida il tempo stesso.